Hai riaperto i battenti questa mattina ad Ostuni il mercato settimanale non aperto nella giornata del sabato agli alimentari nella mattinata di sabato infatti il mercato sarà aperto solo per l'abbigliamento ed altri beni tranne gli alimentari che ritorneranno nell'area mercato il mercoledì e venerdì nella prima giornata dedicata al mercato del sabato abbiamo incontrato all'interno dell'area mercatale il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo e l'assessore alle attività produttive Luca Cavallo. Ho voluto verificare personalmente che tutto procedesse al meglio ho visto che vengono rispettate tutte le norme anche in prossimità delle bancarelle, c'è molta attenzione, tutti stanno accedendo all'area con le mascherine c'è il servizio che rileva la temperatura corporea all'ingresso con il contrapersone speriamo di non dover ricorrere più a questi controlli e farlo ripartire in maniera completa però il lavoro di oggi è andato molto bene. Fortunatamente si vede un buon afflusso e una buona sistemazione interna con tutto scocchi e molto liscio dalla settimana prossima ci saranno due mercati, il mercoledì e il venerdì che saranno alimentari e non è un numero abbastanza grosso perché avremo all'incirca 80-90 bancarelle, diciamo, postazioni sarà qualcosa, sperimentiamo pure questo per vedere un pochettino e stiamo dando agio pure effettivamente di aprire quanto più è possibile per cercare di far ripartire questo motore che è stato fermo per tre mesi quindi diciamo che stiamo cercando di snellire un pochettino la situazione.